Momelo è un circuito molto tecnico, determinante un perfetto bilanciamento aerodinamico che consente di sfruttare in pieno l'aderenza della monoposto nei curvoni come nei tratti guidati. Dall'uscita curva 15 e per tutto il rettilineo di partenza il pilota rimane a pieno gas per 15 secondi. A 331 km orari inizia la staccata, l'MG UK in soli 70 metri rigenera 160 kJ di energia elettrica, subito a disposizione della trazione in fase di accelerazione. La propulsione elettrica migliora la prestazione di 2 secondi al giro e 24 km orari di velocità massima.